Il nostro amato Papa, Papa Francesco, sua santità sarebbe caduto in data odierna, 9 ottobre 2018, in quale occasione nel tornare a Santa Marta sarebbe inciampato e ovviamente caduto. Così avrebbe anche affermato lo stesso direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke. La notizia ovviamente ha fatto il giro del web, ha incrementato un certo sgomento, anche se l'uomo in questione si è preoccupato di andare a chiarire che Papa Francesco sta bene, vivo e vegeto si è rialzato e gode di ottima salute. L'intervento dell'uomo in questione vi ricordo che giunge a margine della conferenza stampa relativa al periodo sinodale, aperta a tonda, sinodo, chiusa a tonda, per dirlo in maniera più diretta possibile. Grazie infinitamente, il video termina qua. Un salutone al prossimo da Narratore Italiano. Grazie mille. Grazie a tutti.